Sono Jacopo Murganti e sono il direttore del mulino di Grace. Beh, un lavoro creativo, io ero un creativo perché venivo dalla pubblicità, quindi 30 anni fa mi sono messo a fare il vino per altre persone, però insomma è sempre un lavoro che cambia tutti gli anni, per cui è creazione anche questo. L'azienda nasce nel 1997 e è stata acquistata da dei signori americani, mi chiamano Grace, è una famiglia che vive negli Stati Uniti e per sei mesi vive in azienda. Il mio vino preferito è quello che ho qua, il Margone, la gran selezione, perché praticamente siamo arrivati in azienda insieme. Cioè nel 2014 io sono arrivato in azienda e nel 2014 è nata la gran selezione. È un morale che ho imparato in questi 30 anni che ho bisogno sempre spremersi tutti gli anni perché il mercato, che è il nostro ago della bilancia, è sempre tutti gli anni diverso, per cui un anno è su, un anno è giù, quindi dobbiamo sempre cercare nuove strade per arrivare all'obiettivo di mantenere l'azienda.